Ciao! Niente review, niente di niente, un video brevissimo. Sera purtroppo sono in casa da sola, mi sto facendo una cena e ho comprato la pizza surgelata e volevo farvi vedere com'è sta pizza. Allora, tanto per cominciare il mio fornetto, non so se lo conoscete, questo è un fornetto della Ferrari con la pietra sotto. Vi giuro, io di solito la pizza la faccio in casa, la cuocete qua e come avere il forno a legna, cioè vi fa una pizza assurda. Io ho comprato questa pizza qui, della Copp Fior Fiore e ve la consiglio perché è già la terza volta che la compro ed è veramente la pizza più buona surgelata che io abbia mai comprato, è veramente buonissima. Questa oltretutto è fatta con la mozzarella di bufala dopo, quindi certificata eccetera eccetera. C'è veramente la mozzarella e guardate com'è sta pizza, ancora non è pronta ma guardate com'è alta, com'è morbida, com'è si sta sciogliendo la mozzarella. Sono una stronza, vi vediamo lì. È quasi pronta, vedete questo forno ha la resistenza qua sopra che ogni tanto si stacca quando raggiunge la temperatura e la pietra qui con sotto la resistenza che la scalda, vi devo dire che fa una pizza assurda. Quindi niente, così è giusto un breve video per farvi patire un po' la fame. E niente, vi consiglio questa pizza perché è veramente favolosa. Questa è con mozzarella di bufala, basilico e pomodorini. Niente, ora mi farò la mia cena solitaria. E al prossimo video, ciao.